Dani Alves provato dal carcere, chiede di poter ancora, ha già dato tre versioni diverse. Barcellona, Spagna, giorni da incubo per Dani Alvesi, 39enne terzino reduce dai mondiali disputati con la maglia del Brasile che è stato arrestato a Barcellona con l'accusa di aver aggredito sessualmente una donna nei bagni di una discoteca della città catalana la notte dello scorso 30 dicembre. Il giudice istruttore ha poi emesso nei suoi confronti un ordine di custodia cautelare provvisorio, dando l'ok alla carcerazione preventiva. Le tre versioni provato dal fine settimana passato dietro le sbarre del carcere Brianz 1 di Barcellona. Secondo Cadenas e Erlex Juventus, il cui contratto con i messicani Pumas è stato appena rescisso, avrebbe chiesto di testimoniare di nuovo davanti al giudice dopo aver offerto fino a tre diverse versioni dei fatti. Stando a quanto riportato da TV3, Dani Alves aveva inizialmente dichiarato di non conoscere la ragazza che avrebbe aggredito sessualmente. Poi che l'aveva vista ma che non era successo nulla infine ha affermato che era stata lei a gettarsi su di lui. Virgola.